Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro ha effettuato numerose attività ispettive durante l'ultimo periodo nei confronti di imprese, esercizi commerciali e lavoratori autonomi in materia di lavoro. In particolare ad oggi sono stati eseguiti più di 400 controlli grazie ai quali è stato possibile individuare e sanzionare 25 datori di lavoro che utilizzavano mano d'opera irregolare o in nero. Nel dettaglio le fiamme gialle pesaresi hanno scoperto 18 lavoratori completamente sconosciuti agli enti previdenziali ed assistenziali, nonché 182 lavoratori per i quali, anche se assunti, sono state riscontrate irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro, quali ad esempio la corresponsione di retribuzioni reali superiori a quelle dichiarate in busta paga. Ma la maggior parte degli interventi sono stati eseguiti nel corso delle ordinarie attività di accertamento fiscale, anche se in alcuni casi sono state effettuate ispezioni mirate che hanno riguardato esclusivamente il contrasto della piaga del lavoro sommerso. Dalle indagini svolte è emerso un fenomeno trasversale di utilizzo di mano d'opera in nero e irregolare nei più svariati settori economici, dal commercio, ristoranti, discoteche, stabilimenti balneari, bar, saloni e gelaterie, alle costruzioni, all'industria, al mondo dei professionisti. Sono inoltre stati controllati lavoratori fuori legge anche presso soggetti che avevano omesso di presentare le prescritte dichiarazioni di fiscali e che pertanto risultavano completamente sconosciuti al fisco. Le misure previste per chi impegna lavoratori irregolari o in nero prevedono anche una maxissanzione, oltre che in determinate condizioni la sospensione dell'attività commerciale, come prevede la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quest'attività di controllo e di risultati ottenuti testimoniano il forte impegno della Guardia di Finanza nel settore ed è mirata ad impedire fenomeni di concorrenza sleale che, messa in pratica da operatori economici che, alterando le regole del mercato, danneggiano in modo irrimediabile il mercato del lavoro e degli imprenditori onesti e rispettosi della legge.